Andrea Concas, nuovo sindaco di Arbus, emozionato sicuramente ma soprattutto che effetto le fa essere stato eletto sindaco al primo tentativo? Un effetto naturalmente di soddisfazione perché tutti gli elettori, buona parte degli elettori, hanno dato fiducia alla mia lista, al gruppo di candidati che si sono presentati con me e che hanno lavorato alacremente durante questa campagna elettorale per mettersi a disposizione insieme a me per la popolazione. Che cosa si sente di dire ai suoi concittadini? Ai miei concittadini voglio rassicurarli, dirle che io e la mia squadra lavoreremo, metteremo tutto l'impegno in campo per cercare di risolvere le problematiche che assigliano la nostra comunità. Ecco Andrea, che cosa le piacerebbe risolvere se c'è qualcosa da risolvere subito e mandare avanti della precedente amministrazione se c'è qualcosa da mandare avanti? Manderemo avanti tutti i progetti che sono stati intraprese da questa precedente amministrazione che a loro volta hanno proseguito dalle precedenti amministrazioni e il governare bene bisogna naturalmente prendere tutto ciò che di buono è stato fatto, continuare per terminare tutte le progettazioni, tutti i cantieri aperti e tutte le idee positive che hanno fatto sì che questa amministrazione precedente andasse avanti.